Hanno preso il via a Cagliari gli incontri promossi dall'Associazione Sardegna verso l'UNESCO sulla valorizzazione culturale ed economica della civiltà nuragica. Noi siamo convinti di possedere una ricchezza straordinaria che sia adeguatamente valorizzata oltre che essere un elemento fondamentale di identità culturale per i sardi è anche una grande scommessa per lo sviluppo economico della Sardegna. L'obiettivo è quello di offrire nuovi spunti, analisi e prospettive sull'antica civiltà sarda e far emergere l'importanza del patrimonio nuragico non solo per il turismo ma per l'intera economia della Sardegna. Noi dovremmo farci una domanda, la Sardegna è oggi sufficientemente conosciuta nel mondo, i nuraghi sono oggi sufficientemente conosciuti nel mondo, purtroppo sappiamo che la risposta a questa domanda è negativa e allora la seconda cosa che dobbiamo pensare è come cambiare il mood, cioè come riuscire a far conoscere questo straordinario patrimonio che è unico al mondo fuori dalla Sardegna perché possa diventare un valore economico aggiunto per la nostra terra.